Questo è un progetto un po' più simpatico, un po' diverso dal solito. Devo costruire una gabbia per i salumi. Queste 7,5 lo taglio a metà e poi 120 lo taglierò a metà, quindi lo divido in 4. Questa è un progetto un po' più simpatico. Questa è un progetto. Questa è un progetto un po' più simpatico. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.